Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Quindi direi profondamente che io dico il costo dei nostri lavori di essere presenti nelle condizioni, portare solo contributo oppure contrastare quello che può rimanere nella maggioranza, problemi non c'è solo. Puoi spiegare ai consiglieri comunali quali sono gli artisti deputati? Ti posso chiedere la vostra dedizia? Non lo hai intervenito, lo sapete? Sei lo fai, è il mezzo. E' il mezzo. Quindi, per quanto riguarda l'housing sociale, già, per quanto riguarda l'housing sociale, quindi riguardo come standard, quindi in realtà l'housing sociale è già più completo. Quindi, per quanto riguarda l'housing sociale, quindi in realtà l'housing sociale è più completo. Quindi, per quanto riguarda l'housing sociale, quindi in realtà l'housing sociale è più completo. Quindi, ecco, in realtà il discorso di sede di là, proprio mi stavo facendo la proposta che tengo, tengo, vada la direzione giusta. Io credo che questa discussione sia riferata da un esmento che vive da me in questa città. Ed è quello della scementificazione, della situazione, della voglia amata di questa amministrazione, di realizzare l'housing sociale. E se c'è qualcuno che è comprimo di questo, io trovo una amica che dice, io ho fatto un emendamento che è stato presentato. Cioè, c'è TF, proprio quello c'è, questa amministrazione, come vedete, è una voglia amata di realizzare, anzi, trovo in suуйте, ho principio, ho principio, ho fatto una ricerca, ma non è veramente dov'è cercare di impedire. Ma il punto di partenza, non lo dovete vedere, è tutto sbagliato, perché non c'è assolutamente la parte del più di questa, perché non c'è una voglia marcia di rinanzamento. E non è anche la principale quattro osservazioni, perché non è stato un messo, non è stato un messo, non è stato un messo, 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 è stato un messo. Un'unica cosa e un'unica finalità, semplificare questa scelta. Mi vorrebbe indicare un passo specifico, concreto, di concessione e di imprendimento che vanno questa decisione, partendo anche dai campi intestinali, ma c'è una legge, c'è una legge che summa la delle comprensioni, caro di nuovo, ed è una legge sfruttando carta, bene, come la scelta, seppurata, è troppo giusto che si dica delle cose che non corrispondono a me, e vi ricorda che non corrispondono a me, ma ne abbiamo mai dire con le condizioni e con le cose che non sono state, e visto che vi trovo, e visto che vi trovo, vi dire, guarda, esco cose che abbiamo un'unica. Sono città di destinazione, dove più volte si è finito, che noi abbiamo avuto un momento con i miei soldi di popoli. Io non le sto ricordate, che l'attività era soppiato delle doppiazioni, la prima dell'attività del 99 è stata approvata con il vostro e io ti dico anche la puntina da su. Hai fatto bene, hai fatto bene per farlo, pensi io non sto caricando, che hai sbagliato, che ti avevo provato il libro. E allora ti senti di coperlo. E allora hai un errore che non c'ho detto. E allora c'è stato un fuoco su il loro Lazio, il loro Unico, i suoni le luogliano, i suoni le luogliano, i suoni le luogliano, i suoni, i suoni, i suoni, i suoni, i suoni. E hai fatto bene, hai fatto? La parte del consigliere del consigliere del consigliere di polizia dopo se no ci porto male di rappresentanza del sistema. E' un consigliere di polizia. Il consigliere è un levole professore per la polizia. Il consigliere dice che l'artistice manifestata ovviamente, il dottore procede all'afforzamento di una condizione a costanti problemi e procede a fare un voto di internazionale sull'esercizio. E se non ci accorgi di questa natura ne ho confermato, una cosa che poi si deve ricordare il voto è che la nuova partecipò e invece è cresciuto avanti per l'esercizio. Ora, vorrei dire qualcosa di contestazione di un voto. E' quello che si dice, posso dire, a più di prese, che noi avremmo avuto favore di che sovventino. Allora, tornando al discorso dei campi di internazionale, noi alziamo l'obbligo, l'obbligo di conoscere quanto ci viene di più. E' giusto questa vicenda sui campi di internazionale che la teglia è proprio di più, perché la teglia è proprio di più, e poi entra a quella nuova storia, per capire i comportamenti di ciascuno di loro. Quindi, il bene parla del partito di Montaglio, allora non c'è il partito di loro. E' anche il campi di internazionale, e anche il discorso dei campi di internazionale, e anche il discorso dei campi di internazionale, e anche il discorso dei campi di internazionale, molti vaccinali non è solito. Ehm... Quindi, l'eventamento, premesso che l'ha spiegato bene, eh, lo spiegato bene, che l'housing sociale, l'housing sociale, costituisce, come sempre, lo Stato, ma è un punto di internazionale. Si può poi immaginare che, a maggio, a giugno, quando noi avremo uno sforzo per adottare e adottare un nuovo punto, noi lo potremmo fare, se non si depende da un equilibrio di Stato. forse non è venuto con il precedentevo, però, per esempio, un cittadinole, però, una situazione, e non venire, non poteva fare alcuna, è un'azione, come dire, concessoria, che si era poi manifestata, per il forso di internazionale, e poi, già di venire, che era condizionale, un procedimento, che avevano un costitivio. Oggi tutto questo viene recuperato. Perché? Perché il punto che è stato adottato l'anno scorso, a un età che è stato sospeso da 14 ore due ragioni, perché mangiava la massa, perché c'era una situazione che non mangiava il Stato. Ma, purtroppo, un solo obiettivo, che è la Santa Facuia, per di oggi, un poco più, poi il rigore, tutta l'attività, ma ci sai quel luogo che accadde più, che la genera, la polizia non c'è non c'è mai passato. Quindi, avete l'idea, in un'area di spesa, e poi, per dire che mi convince il reggamento di, su un punto, che noi, e loro, presenti, che accogliano questo reggamento, quando noi arriviamo a una decisione, in particolare, rispettiva, che ci possiamo arrivare rapidamente, alla definizione di un intervento su un'area sospetta, loro, per l'attività, il consiglio, per comunicare, e quindi, in quel caso, della comunità, che, la comunità, non si assuncia, sulle responsabilità, per comunicare, un'area di spesa, io vi ricordo, una frase, che, 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 che per noi sono un po' di benzina, perché al fine del potere non fa il tempo di attenzione. E se la benzina può essere, come dire, una piccolissima quota di ausilio sociale, se avremo il Consiglio comunale e sarà il Consiglio a decidere se vale la pena, come dire, approvare quell'intervento oppure no. Io spero tanto che di queste ipotesi, che sono oggi abbastanza adottate, io immaginavo, si possono vendere i caldonati, ma ormai fanno la settimana. Perché in realtà il sistema comincia a ragionare su un po' sempre più concreto e non vuol dire su un'articolazione che venga a configurare un'amministrazione, un po' di caldo, un po' di caldo di caldo e un po' di caldo di caldo. Abbiamo, quando la gente può dire che è il ritorno di scelte così velocemente, che a te, come si chiede, la ESA, come tra il Paolo Edo, qualche amico, anche questi amici, che noi non abbiamo la fortuna di conoscere, adesso li conmoverete, perché noi non abbiamo fatto questo altro. Quindi c'è una richiesta che era anche una contestazione, secondo un'interventazione della norma, cioè la norma parla per gli esistenti, per altri esistenti. Allora, noi abbiamo accorto la tua ostentazione di contestazione, tu non hai fatto un progetto, c'è, io ho fatto queste cose che noi abbiamo fatto, non c'è ancora una richiesta, non c'è ancora una richiesta, quindi, voglio dire, la parte che stiamo enfatizzando una questione, che ne parte, nella vostra e l'esco non c'è realizzata un po' da nulla, allora voleranno tutti i costi a creditare, questo è il progetto. C'è stato un progetto, che è stato un progetto, che è stato un progetto, ma non c'è questo, cioè quindi io sono, diciamo, più, 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 più pertinente, nel senso che ci lascia un, di te, non un'opportunità, di una merita a perdere, la cosa. Ma non è chiesto che sono, ah no a fare pausa, non so c'è, anche perché non c'è ancora il progetto che noi non cerchiamo un progetto! Grazie